Un volo di palloncini bianchi ieri mattina per ricordare Margherita. È stato il gesto della comunità di Palinuro scossa per quanto accaduto alla piccola sabato scorso. La salma della bambina di appena 5 anni è adesso presso l'obitorio dell'ospedale di Vallo della Lucania e si attendono ulteriori riscontri da parte del procuratore Ricci. Una tragedia che non trova parole per essere descritta. La famiglia della piccola in vacanza nel Cilento sabato mattina si è recata presso il sentiero dei Fortini e delle Torri per una escursione con i cinque figli. La tragedia si è consumata alle ore 13 nei pressi della Grotta Azzurra alle spalle del porto di Palinuro. La bambina si è allontanata dai suoi genitori verso una zona dove nel sentiero la vegetazione è molto fitta. Il papà non è riuscito a fermarla avendo in braccio anche il più piccolo dei figli di circa un anno. Sono bastati pochi istanti Margherita, forse attratta dai colori del mare, si esporta troppo e purtroppo è precipitata a picco nel mare dal punto più alto del sentiero facendo un volo di circa 50 metri d'altezza. Confermata dal medico legale la morte per annegamento, il corpo senza vita della piccola è stato recuperato dagli uomini della Capitaneria di Porto di Palinuro, coadiuvata dal comandante Francesca del Re e portato presso il porto di Centola. Sul posto anche il procuratore Ricci, oltre al magistrato di turno, dottor Pizzi, per le indagini di rito sconvolti i familiari per i quali è stato necessario l'intervento dei medici del locale South. Ad intervenire sull'accaduto è anche il primo cittadino di Centola, Palinuro, Carmelo Stanziola. Esprimo vicinanza alla famiglia, sono molto rammaticato per l'accaduto. È una tragedia che sconvolge l'intera comunità. Per il momento le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania sono state delegate alla Capitaneria di Porto. I sei accessi del sentiero sono stati sottoposti a sequestro dal procuratore di Vallo della Lucania, Antonio Ricci.